Ci sono tumori al seno in cui è molto chiaro se insieme alla terapia ormonale bisogna fare la chemioterapia oppure no. In altri invece è necessario stimare se aggiungere la chemioterapia. Oggi sono disponibili test che aiutano il medico a scegliere. Ci sono tumori mammari come i tumori tripli negativi o i tumori a due positivi nel quale la chemioterapia è fondamentale in quasi tutte le pazienti. Al contrario esiste un grosso sottogruppo di tumori e che sono candidate a ricevere o un trattamento con sola terapia ormonale oppure una combinazione di chemioterapia più terapia ormonale. Attualmente sono in commercio diversi tipi di test, in particolare il test Oncotype DX, indicato per la sua capacità prognostica e predittiva, è il solo fortemente consigliato negli Stati Uniti per le decisioni riguardanti il ricorso alla chemioterapia. È importante riconoscere che il test è indicato per una popolazione specifica di donne, che sono le donne con tumori recettori positivi e erdo negativi, che hanno un rischio di recidiva non bassissimo e che sono in quella che noi chiamiamo cosiddetta zona grigia, dove in assenza del test l'oncologo procederebbe a raccomandare una chemioterapia. In queste pazienti il test ha un'indicazione proprio perché grazie all'utilizzo del test all'incirca un 50-60% di queste donne può essere riclassificata come una paziente che non necessita l'aggiunta di un trattamento chemioterapico. Nel luglio di quest'anno la Regione Lombardia ha concesso la rimborsabilità del test e le pazienti italiane si augurano che in futuro il test sia rimborsabile anche in altre regioni e inserito nei LEA i livelli essenziali di assistenza. La decisione della Regione Lombardia è molto importante. La Regione Lombardia è la prima regione in Italia che ha deliberato in tal senso, cioè ha reso disponibile il test alle pazienti lombarde. Però questa decisione è importante anche per le altre regioni perché riteniamo che con questa decisione si possa accelerare il processo di disponibilità del test anche in altre regioni che sono altrettanto sensibili a questi temi. Le infezioni e le morti provocate da batteri resistenti ai farmaci sono in aumento. Ogni anno sono 600.000 i casi in Europa e uno su tre avviene in Italia. Per questo motivo gli esperti della Società Italiana di Terapia Anti-Infettiva rilanciano l'importanza della sensibilizzazione dei cittadini e sottolineano l'importanza di un uso corretto degli antibiotici, ma promuovono anche l'informazione tra i medici e il personale sanitario. Molti sono spesso tentati dall'utilizzare l'antibiotico al primo giorno di febbre perché pensano che l'antibiotico sia la soluzione di tutti i problemi e non si rendono conto che invece gli antibiotici utilizzati male sono un problema. Oggi utilizzare bene gli antibiotici vuol dire fare bene a se stessi, bene all'ambiente in cui viviamo e bene alle persone con cui noi viviamo. C'è il rischio di fare un'infezione da germe molto resistente perché è un rischio ineluttabile ma che può essere non azzerato ma compresso e la compressione del rischio, quindi la riduzione di questo rischio passa attraverso alcune regole d'oro. Uno, che gli operatori sanitari tengano dei comportamenti da operatori sanitari, che gli antibiotici vengano prescritti non come un bene rifugio che intanto male non fa ma che vengono prescritti avendo bene in chiaro in testa il rapporto costo-beneficio di questa prescrizione. Gli infettivologi sottolineano anche la scarsa disponibilità degli antibiotici di nuova generazione, più efficaci e a minor rischio di resistenza, che vengono limitati solamente per una questione di costo. In ospedale, negli ospedali italiani vengono messi sotto osservazione o limitati nell'utilizzo degli antibiotici di alto costo, che sono evidentemente quelli di ultima generazione. Quindi quello con cui noi dobbiamo arrivare è a una visione non soldocentrica dell'appropriatezza prescrittiva ma una visione che si basa sull'appropriatezza, sul dare il farmaco giusto al paziente giusto. E se costerà tanto, dobbiamo essere pronti a spendere tanto, perché purtroppo le infezioni e le germi resistenti costano tanto. È un esame che sembra apparentemente disagioire, ma è una fesseria. Io lo faccio, l'ho fatto e vi assicuro che veramente è una fesseria. Per cui fatelo ogni anno, mi raccomando, soprattutto dai 50 in su. Mi raccomando, fate la prevenzione. È fondamentale, grazie. Francesco Paolo Antoni è il protagonista di una sitcom diffusa sul web che racconta in cinque puntate con un linguaggio semplice e scherzoso come affrontare il delicato argomento della prostata e dei suoi problemi all'interno della coppia. Oggi spesso internet è la fonte primaria dell'informazione, fortunatamente e sfortunatamente, ma è così. Quindi è importante essere su internet e usare questi canali proprio per aumentare l'informazione tramite una conoscenza accurata, veramente seria. E qui le società scientifiche, tutti i partner dell'iniziativa hanno dato il loro contributo. Proprio aumentare la consaparezza che di tumori della prostata e di patologie prostatiche si può parlare e si deve parlare con la propria moglie, la propria compagna, gli amici, i suoi propri colleghi senza nessuna paura o tabù. La sitcom è un'iniziativa della campagna Qui Procoa Salute della Prostata promossa da Europa Uomo Italia e Fondazione Onda con il sostegno di Astellas per sensibilizzare uomini oltre i 50 anni sull'importanza di superare i pregiudizi e sottoporsi a periodici controlli della prostata senza dimenticare il ruolo delle donne, compagne di vita. Il pudore maschile è ancora un problema. Noi siamo qui per convincere chi ci sta ascoltando a superare anche le perplessità e rivolgersi alla figura che è l'urologo, chiaramente passando dal medico di base per anticipare la diagnosi, per riconoscere i problemi relativi sia al tumore prostatico e al rischio oppure all'ipertrofia prostatica perché prima arriviamo, prima facciamo diagnosi, prima inizia il trattamento e prima c'è la possibilità di cura. Abbiamo bisogno, credo, di fare un po' di cultura sul sistema salute e per farlo bisogna rivolgersi anche a tutte le persone che vivono ogni giorno il mondo della salute che sono i pazienti. È importante mettersi dalla prospettiva anche delle donne che sono accanto agli uomini con cancro perché loro svolgono un ruolo straordinario, a volte in silenzio ma bisogna mettersi anche dalla prospettiva della popolazione sana perché grazie alla prevenzione e alla diagnosi precoce possiamo dare voce alla loro vita e continuare a far vivere la loro vita sempre. I medici oculisti riuniti al congresso della Società oftalmologica italiana lanciano un chiaro messaggio la cecità oppure vedere in modo penalizzante e inadeguato non è purtroppo una realtà degli anni passati anzi si prevede che in futuro le persone con problemi di vista aumenteranno con un forte impatto sociale. Con l'aumento dell'età media e della vita abbiamo la grossa problematica che la maggior parte di queste persone sperimenteranno una diminuzione visiva che finché rimane in un ambito di gestione può essere un problema ma superabile. Quando va sotto il livello dell'autosufficienza diventa un dramma anche continuare a poter fare le proprie attività quotidiane. L'83% delle relazioni con il mondo esterno passa dagli occhi quindi una persona che non ci vede parte con una penalizzazione dell'83%. Inizialmente molte malattie dell'occhio non provocano sintomi per cui è necessario sottoporsi a controlli regolari con visite specialistiche presso un medico oculista a partire dalla nascita e proseguendo regolarmente per tutta la vita. Tutti sanno, è inutile che lo diciamo, che gli occhi hanno tantissime malattie. D'accordo? Purtroppo ci sono anche delle malattie che sono silenti. Per salvaguardare la vista tutta la vita bisogna fare una visita medico oculista fatta da un medico oculista alla nascita, entro i tre anni, il primo giorno di scuola, a 12 anni, dai 40 anni ai 60 anni ogni due anni e dopo i 60 anni una volta all'anno. Sono queste le raccomandazioni per ottenere quella che gli oculisti chiamano cecità evitabile perché non è accettabile che una persona perda la vista per una malattia che può essere curata. Bisogna che tutti abbiano la potenzialità di avere l'accesso alle cure migliori. Oggi le tecnologie sono moltiplicate. Abbiamo delle tecnologie che quando io mi sono laureato sembrava come poter andare sulla luna. Quindi ce le abbiamo, utilizziamole, ma per utilizzarle la gente si deve far visitare. Quali sono i bisogni clinici e sociali delle persone colpite da tumore al pancreas? Prova a dare una risposta l'analisi condotta dalla società di ricerca Iseo realizzato con il patrocinio delle associazioni dei pazienti e con il contributo dell'azienda Servier. Il principale aspetto critico riguarda il tasso di sopravvivenza dalla malattia che a 5 anni è pari soltanto all'8%. Questi bisogni non soddisfatti sono enormi e sono tantissimi. Il primo tra tutti è l'aspettativa di vita. 4,6 mesi di aspettativa di vita alla diagnosi per questi pazienti. Si può capire quanto sia difficile gestire situazioni di questo tipo per il paziente e per i familiari e gli amici e il contesto di riferimento. Da qui l'indicazione e la richiesta che il paziente sia preso in carico da un team multidisciplinare ed esperto della malattia. Condizione che può essere soddisfatta soltanto in un centro ad alta specializzazione e con un elevato numero di casi. Si può fare qualcosa di più attraverso l'organizzazione, team multidisciplinari tra medici e personale paramedico che può permettere quando si arriva alla diagnosi di questo particolare tipo di tumore che è quasi sempre in ritardo per l'80% dei casi in ritardo, agire rapidamente e su diversi fronti, non solo l'aspetto chirurgico, non solo l'aspetto clinico, non solo l'aspetto di presa in carico da parte del Servizio Settacolo Nazionale, ma anche per esempio tutto l'aspetto psicologico, della nutrizione, dell'assistenza del paziente. Anche perché l'aspetto emotivo è un aspetto particolarmente importante. Il paziente ha sicuramente bisogno di essere indirizzato fin da subito in un centro specializzato nel trattamento di questa patologia, un centro che ha un alto volume di casi trattati durante l'anno. Questo purtroppo non avviene spesso e mette a rischio la vita stessa del paziente che si potrebbe trovare ad essere gestito in un centro che non ha le competenze e le esperienze necessarie per questa patologia. Quindi è importante sempre indirizzare il paziente verso questi centri che non sono tantissimi in Italia, però ci sono.